E' stato presentato nella Sala Rossa del Comune di Pordenone il ventesimo Festival Internazionale di Musica Sacra. Dall'11 novembre al 17 dicembre 2011 il festival festeggerà la sua ventesima edizione proponendo 5 preziose tappe concertistiche. Un viaggio musicale dedicato al senso sacro in diverse epoche e culture. Un itinerario che spazia dalle contaminazioni fra spiritualità araba e andalusa alla tradizione albanese per arrivare ai canti natalizi dei grandi cori di montagna. Non mancheranno proposte che riportano il sacro nel repertorio classico della produzione barocca e rinascimentale. Alla presentazione erano presenti Monsignor Luciano Padovese, il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti e l'assessore comunale alla cultura Claudio Cattaruzza. 20 edizioni sono una bella cifra ed è una data importante che va rimarcata a testimonianza della bontà della proposta e anche della tradizione della proposta. La finalità che viene da questo festival è innanzitutto questo itinerario attraverso la spiritualità, una spiritualità che non è confinata solamente nella nostra identità, nella nostra cultura, ma spazia anche verso la conoscenza di altre culture, come sarà quest'anno il caso della cultura albanese o della Spagna della reconquista dei mori della parte magrebina della Spagna. e quindi questo sarà estremamente importante perché questo contribuisce a far conoscere meglio gli altri ma anche a conoscere meglio noi stessi.